Oggi proseguiamo nel percorso che abbiamo iniziato insieme verso un corretto addestramento del cavallo con il terzo punto della scala del training, il contatto. Esso può essere definito, in parole molto semplici, come la connessione che si deve creare tra cavallo e cavaliere, per meglio dire tra le mani del cavaliere e la bocca del cavallo. Spesso mi è capitato di sentir parlare della ricerca della tensione ideale nelle redini. Beh, la tensione ideale non esiste, perché è influenzata da molti fattori, sia del cavallo che del cavaliere, come ad esempio la struttura fisica. È però semplice individuare quando il contatto non è sufficiente, perché basta guardare le redini, se sono ferme, cioè tese tra la mano del cavaliere e la bocca del cavallo, o si muovono, non sono sufficientemente tese. Questo perché? Perché devi ricordare che le redini sono il ponte di connessione tra te e il cavallo, tra te e la bocca del cavallo. Quindi deve risultare esserci sempre una leggera tensione che le tiene ferme. Ciò non significa che per tenere le redini tese devi iniziare a tirare. Assolutamente no. È il cavallo che attraverso un corretto lavoro deve andare a cercare il contatto sul morso. Il cavaliere però deve essere pronto a riceverlo e premiare il cavallo quando lo tiene. Se stai addestrando un cavallo giovane, a maggior ragione devi evitare di cercare un buon contatto solamente mediante l'utilizzo delle redini, perché questo porterà solamente a problemi e sarà molto arduo per il tuo cavallo sviluppare una corretta muscolatura e un corretto ingaggio del posteriore. Ti ricordo che il miglior modo che hai per ottenere buoni risultati con il tuo cavallo è quello di instaurare un rapporto di collaborazione, non di tensione. Il segreto di una buona equitazione è agire poco ma in maniera intelligente. Spesso più si fa e più si creano danni. Aspetta perciò che sia il tuo cavallo a venire a cercare un buon contatto. Lavoralo per far sì che sia lui a venire da te. Se pensi che questo video ti sia stato utile, condividilo con i tuoi amici. Ci vediamo presto nei prossimi video.